ciao ragazzi scusate a sbietto casa o mi sopporto nel scoperto casa sono nella casa di steven dove mi dà mi dà dive sopra di esso ma poi ho detto sotto milita e dive questo vale solo imparava un po come l'hm di fine il fatto il fatto dimenticare strength un po che ho già fatto imparare alti poco mondi che non mi sa bene imparavano più di un po come let's go here e ciò non ho fatto non finì battuto il puzzle da palestin tipo psico dopo il poco non c'è da usare il pezzo userò come no dopo usare sbagliati poco e pino tate elisa satelitone questa vita la prestata di un po più facile in zaffire urbino che in amera dette difficili sono di quelle no noto e solo rock in coach a lunatone è un grande solo fa male sa chi calma no no questo va deve essere potente perché può mettere in santo aspetta usano in etnosi e lui fare è morto nei pochi importanti sta studiace ha morto moni solo solo rock o pionetto del sud efficace noi sa che ha altri sacrifici dai chissà nei punti da sacrificare la vita fate mandare a mettere altri po con il funerale che pensano tentano essere un po tanti poco credo dentro le tombe perché io che giova così cauto sono una persona non cauto troppo sennò la snotte bellezza no no 1 è tipo psico no e ti poco in molti e si ci vuole ciò 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 ci vi sembra schifo volevo non usare a femmino non moschio di che ok dai erco che devo andare non cosa si deve andare sembra siamo qua una dice no è un sasso che mi dice do andare si qui pui 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 e credo va anche e mi ha visto non ricordo benissimo il puzzle perché anche se l'ho fatto più una volta e ripetitamente dimentico sempre il poso questo è un'altra di quelli che non mi porto benissimo ci esco dall'acqua e trovo un gol bat beh sono tutti questi pose di stupi che penso che da usare se mi parto con ma con vita perfetto ho sbietto mostri da non si può sottare lo stesso notare i livelli sopra sì anche se per tempo di vite con la roskin mattina ma dopo il di feste che don't fa malissimo e un shot grazie perché l'altro che l'ho usato tectone il raccoglio ha colpito forse sono salvato un pochino e qua c'è il puzzle che vi dico subito me lo dimentico sempre vedete vedete ragazzi come dimentico come dimenticato benissimo ma il puzzle questo quel bat mi deve essere catturato per i forti dai ma ce l'ho fatta e per cui che vero ne faccio tempo le mosse poco noi nessuno imparava ma ce l'ho togliero sicuramente perché non 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 chiagra è il pokémon il dio dell'acqua perfetto portiamo quel po come take down togliere un po che ricorre forse forse possono sottarlo no a tot e mighty iena a butta del suo club a tipo brema a sucroba ciò poco che fanno danno fuoco da un timo fuoco santo cielo dai conosco che una precisione così brutta mi fai anche confusire colpisco lo stesso e ma non riesco a cidere forse faccio un crunch di tipo vileno ma fa pochissimo è madonna sto quando smetti se confusire but e e e e bene non ciò non c'è e poi fatto non ciò non ciò non mattina non so qual è il suo troppo con dire che questo problema il suo studio scerpito e mamma mia un modo stesso fatto è fatto il botto di danno che posti fare una testa che fai se nessuno cuore o mio dio sto qua piccia come un duro sto sapendo non sto certi dobbiamo sciottare metà squadra mi fa arrabbiare su scerpito era la difficoltà di questa battaglia non metto in niente dopo che so che slush fa così male cosa devo togliere isla con un imbecille e fa incappolare kaiogre adesso si da andare a catturare il nostro amico kaiogre kaiogre si è un kaiogre si basta sto sto l'ho sentito 80 volte stai zitto arci stai zitto e massi si sta succedendo il caos adesso andando anche la città che non mi credo più il posto perché io la mia memoria siamo due cose ben veste puoi smetterla tutto si si anche io ci vado ok siamo arrivati la scuola è veramente una fortezza ma devo cambiare un po come prendere col bat che anche perché vendi troppi sport che la possa palestri con le di tipo acqua e ghiaccio e sapete così dire questo tipo a con ghiaccio vuol dire assi mi sembra un po con tipo erba il traccio una mostra super efficace come il cipo è l'abso con i nostri tipo elettro come vede capo palestri con i giochi e wallace capesse o il capo palestri su rubino e zaffiro o uno dei il campione il campioni al tg e campioni in emerald 60 dei rumori 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 9 8 9 9 10 12 12 13 14 14 14 così come si fa io che sì 45 non so perché porto come mai posso fare la tattica genere di intelligenti buttare una master ball anche se il genere non so non si può usare nelle not block di che bello abbiamo se se e se dono spero che sono schipro spero ho visto una la vista parliamo con steven vorrei sì sì sono arrivato niente difficoltà ok non ricorda più tu poco valence di che ai cinque pochi di riscrivere con the boat come le fa dormitoria no al maschio dovete una film no moody water aspetta vi vede cosa c'è di che io vado al curare dai perfetto lui già un terremoto ok ma si tipo produzione no questo è brutto grazie grazie questo è un po' problema si si è più veloce si è più veloce non è sopra no qua c'è una hyper potion perfetto potrei alzarmi l'attacco con sforzance il problema che hanno messo la pioggia che la pioggia era bella per il mio stop ma non per fa male riesco a esistere una chance la curita di esiste mi trovo dai no rende è brutto non abbiamo sempre tutto che poteva usare può smetterla di colpirti da solo la pioggia è più veloce un'altra tattica, qui curia la scuola, usa sword dance, così si metto di nuovo attacco metto un magnete se chiamo un magnete dai to facendo meni di prima cool shiny è più veloce è un magnete che mi butterà giù quasi metto a pokémon non è più piuttosto ma qui ti posso shiny no ha fatto un crit penso pino non è più piuttosto ma non è più piuttosto ma eye va bene va bene va bene va bene con la possibilità di tutto di congelarmi che il 10 per cento per bim e poi fa qualcosa se non mi fa un crit sono raggiù ma shiny se diventa se fa la mossa della velocità e se un po più veloce metà vita metà vita ok shiny ha fatto poco un'idea sword dance no questo non è bello non è come modo anche fuoco giù non pensarci proprio ecco una domanda con tre sword dance sto qua non va giù ok una domanda rischio a fare del danno compino per esempio dive modi water non è come modo water ah mio dio no all'esco ma che di questo malo vita colpa di su maio tic si nasceva un dono sto maio tic stupido mi stai facendo arrabbiare stai zitto stai zitto stai zitto stai water pols giuro che mi arrabbi arrabbi tantissimo stai wà non so che ma stai c'è c'è ho tutte le medaglie ma devo fare questo uno due tre quattro cinque cinque popolo saccare cosa bella seguiremo altri po con caiogre è possibilmente una scelta di membro di squadra io allenerò tanto e volverò e vi bravo in flag on questo episodio di tutti c'è al posto e ciò grazie